Il Teatro della Fortuna di Fano è ideale per il nostro progetto, ci consente di esaltare ogni dettaglio di questo capolavoro. L'ho affermato il maestro del teatro italiano e artista legatissimo alle Marche, Pierluigi Pizzi, che ha firmato regia, scene, costumi e luci del Macbeth di Giuseppe Verdi, la nuova produzione della Fondazione Rete Lirica delle Marche, che ha debuttato lo scorso 12 novembre al Teatro dell'Aquila di Fermo, riscuotendo un grande successo così come ad Ascoli la scorsa settimana. Ora lo spettacolo a Proda Fano, sabato 26 novembre alle 20.30. Macbeth è la prima opera di Verdi ispirata a un dramma di Shakespeare, che lui considerava una delle più grandi creazioni umane. Un progetto molto ambizioso, nel senso che rinuncia a tutta la parte esteriore del melodramma, appunto i ballabili e tutto il resto, considerati come un ornamento non necessario. Qui ho trovato gli spazi giusti, il clima giusto. Pizzi ha poi citato la compagnia di canto pronta, detto ad aderire con entusiasmo e fiducia in quello che stavamo proponendo, fondamentale anche la presenza del giovane direttore d'orchestra Diego Ceretta, 26 anni, disposto a seguirmi, ha spiegato e a condividere tutti gli impulsi che venivano da questo progetto. Macbeth è un titolo che pone tanti problemi, tante difficoltà, però è stata una gioia affrontarli, è stata una gioia affrontarli con il maestro Pizzi, è stata una gioia affrontarli con tutti i ragazzi del cast, quasi tutti al debutto e questo è un motivo di energia, di volontà, di voler fare il meglio possibile, di scoperta, di scoprire insieme un titolo che è un caposaldo della storia della musica e ci pone tutti alla prova. A sottolineare il grande lavoro svolto in sinergia anche Luciano Messi, direttore della Fondazione Rete Lirica delle Marche. L'opera lirica è già di per sé un grande lavoro di squadra per tutte le componenti artistiche e tecniche che mette insieme. Anche produrla è un lavoro che se fatto in maniera coordinata e armonica consente di arricchire molto di più la proposta e anche il valore aggiunto che si genera. Da questo punto di vista siamo molto soddisfatti del lavoro che nella Rete Lirica delle Marche si riesce a fare in collaborazione con tutti gli enti territoriali e nazionali. Assessore, abbiamo in casa un vero gioiello, tra l'altro ha detto che l'opera è importante per l'intero territorio. L'opera è importante per l'intero territorio, ma la stessa parola opera indica qualcosa di un insieme di realtà, di arti e in questo caso possiamo dire un insieme di maestranze e di amministrazioni. È importante fare rete e fare rete con qualità porta dei risultati che vengono premiati a livello nazionale e lo vediamo in questo caso. Quindi sono davvero onorata di ospitare a Fano la Rete Lirica delle Marche.